Il Comune di Campobasso ha stilato un protocollo di intesa che attribuisce al soggetto beneficiario l'incarico per la realizzazione di nuove scuole all'interno del concorso di idee, ma arrivano polemiche da parte dell'ACEM che insorge e chiede l'annullamento. Il Comune di Campobasso sul progetto IDEA Scuola non avrebbe proceduto attraverso avviso di gara, ma con semplice protocollo di intesa, intervenga l'anticorruzione. A sostenerlo è l'ACEM, l'Associazione Costruttori del Molise. Dopo la richiesta di annullamento inoltrata al Comune di Campobasso in assenza di un provvedimento di accoglimento, l'ACEM ha trasmesso all'ANAC, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, gli attinerenti il concorso di idee per l'acquisizione di proposte progettuali per la realizzazione di tre edifici scolastici nel territorio di Campobasso. Ragione della segnalazione è l'attribuzione mediante protocollo di intesa di compiti e funzioni a soggetti in potenziale conflitto di interesse nella procedura di affidamento, che invece dovrebbe essere svolta esclusivamente dal Comune di Campobasso, quale amministrazione aggiudicatrice. Ribadisco che nessuno intende mettere in discussione l'importanza del tema della sicurezza nelle scuole in questo momento particolare, in cui il tema è prioritario, dichiara il Presidente dell'ACEM, Corrado Di Niro. Tuttavia, andremo avanti in ogni sede e vigileremo sugli sviluppi dell'iniziativa, in quanto riteniamo che l'intera fase pubblicistica, antecedente la scelta del contraente, debba essere svolta esclusivamente dal Comune di Campobasso, senza egerezze di terzi, conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente, anche perché non si tratta solo di selezionare il vincitore del concorso di idee, ma di conferire a quest'ultimo l'incarico dei successivi livelli di progettazione.